Il Reggio Pabay Hai il credito di ora venendo Il viaggio di ora Dove vai, Ecto?? CHILLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e un pallonetto di testa, uguale a tu, ah si, ah si, non ci credo, due gol uguali, due pallonetti di testa, non è, un pallonetto d'aria incredibile, è incredibile, e tu d'altro che si mette, ma come è incredibile, qua scivola, non è stessa partita, non ti legge, erva, un papirino, ma no, alla fine è un gol, è un po' di due metri, no figli, se è pallonetto è pallonetto, niente, non è stessa partita due pallonetti di testa,